Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio, il settimanale. E' un appuntamento monotematico perché il tema che affrontiamo è questo, si parla della seduta straordinaria che si è tenuta il primo di marzo, il consiglio regionale si è riunito per fare il punto della situazione sull'invasione dell'Ucraina. E allora andiamo per ordine perché la seduta straordinaria del consiglio regionale dedicata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si è conclusa con l'approvazione all'unanimità di una mozione comune che esprime la più ferma condanna per l'invasione. Avvenuta in violazione del diritto internazionale, la piena e totale vicinanza e solidarietà alla popolazione civile colpita dal conflitto e a tutti gli ucraini che vivono e risiedono in Toscana. La solidarietà anche a tutti i manifestanti russi che per aver espresso pubblicamente la loro contrarietà all'azione militare promossa dal Crelino sono stati arrestati. Tutti in piedi per un minuto di silenzio come stiamo vedendo in queste immagini per ricordare e celebrare le vittime della guerra in Ucraina. E' cominciato così dopo l'invito al raccoglimento rivolto ai consiglieri del Presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana Antonio Mazzeo la seduta straordinaria. In aula, come vediamo, anche la bandiera dell'Ucraina insieme a quella della pace. Il consiglio regionale poi ha invitato anche i comuni della Toscana a illuminare i propri municipi o monumenti più rappresentativi con i colori della bandiera ucraina per manifestare la solidarietà dei cittadini e la più forte condanna morale e politica alla guerra in corso. Dobbiamo dire anche che il giorno precedente, il 28 febbraio, nella sala del Gonfalone a Palazzo del Pegaso, c'era stata la consegna del Gonfalone a Rondine per l'impegno profuso per la riduzione dei conflitti armati nel mondo. Quindi il riconoscimento è andato a Franco Vaccari, Presidente di Rondine, cittadella della pace. Viviamo quindi quella che è stata la seduta straordinaria del Consiglio regionale. Ma io l'ho richiesto con forza perché oggi bisognava che venissero fuori tre cose fondamentali. La prima, no a questa guerra che fa male, che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Dire e dare sostanza alla popolazione ucraina, alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e ai bimbi che stanno vivendo giorni di terribile sofferenza. Mandare un messaggio per quello che è possibile a chi costruisce ponti in queste ore che la pace è l'unica via percorribile. Bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. Bisogna che ognuno, esattamente come ieri, noi abbiamo voluto premiare Rondine, cittadella della pace, perché è un luogo di costruttori di pace. Si sensibilizzino chiunque a possibilità di scegliere per perseguire questa strada. E poi il messaggio che la Toscana continua a essere terra aperta ed accogliente. Come sempre è stata nella sua storia, siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi. Lo faremo mandando anche un messaggio forte, che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. Tutte le regioni stanno cercando di agire con unità e la Toscana oggi ha fatto la sua parte con una risoluzione che da un lato si esprime con una valutazione di assoluta condanna verso quell'aggressione che Putin ha animato verso un popolo che in modo democratico si era scelto i propri organi di governo, che stava vivendo il suo percorso di sviluppo e di crescita e che senza giustificazioni plausibili è stato aggredito e invaso come purtroppo nella peggiore tradizione che la storia ci insegna, penso all'aggressione dei sudeti nel 38-39 da parte di Hitler. È evidente che noi dobbiamo essere molto attenti come Europa alla situazione in Ucraina perché l'Europa vive, l'Ucraina, come il baricentro, il cuore del vecchio continente. L'identità dell'Ucraina come popolazione e come nazione è assolutamente indipendente da qualsiasi gioco, a partire da quello prima sovietico, oggi di aggressione russa, è palese nel comportamento, nelle dichiarazioni, nei modi di essere. Ecco, quindi oggi la necessità di lavorare per accogliere gli ucraini profughi, il ragionamento che sempre più si fa è che arrivano in queste interminabili code al confine le famiglie ucraine. Di qua dal confine viene la moglie e i figli, di là il padre che li ha accompagnati prende parte per combattere. È qualcosa di commovente, come è qualcosa di drammatico vedere i bombardamenti che abbiamo visto sulla televisione anche stanotte. E quindi dobbiamo essere davvero vicini a queste famiglie, saranno in prevalenza donne e bambini che arriveranno. Noi le accoglieremo negli alberghi sanitari. Ancora, diciamo così, il senso dell'accoglienza si è sviluppato nei paesi confinanti e conseguentemente Polonia, conseguentemente la Romania. Non c'è ancora un vero e proprio arrivo di Ucraini. Non ci dobbiamo aspettare una situazione tipo quella dell'Afghanistan, quando eravamo con i nostri aerei a organizzare l'arrivo e quindi ben a programmare. Ce li dobbiamo aspettare da un momento all'altro, perché magari arrivano con un pulma che chissà chi guida, con forme assolutamente non conosciute con cui arrivano qua, ma a quel momento dobbiamo essere pronti. E noi, utilizzando quelle strutture che avevamo fatto per l'isolamento dei malati di Covid, ma il Covid sta sempre più decrescendo e quindi non vi è questa utilità, le utilizzeremo per i profughi. Devo dire che sta scattando anche nella popolazione civile toscana un grande moto di solidarietà. In ogni città si sta organizzando il deposito per i viveri e i beni da portare in Ucraina. In ogni città vi sono Ucraini, spesso in ruoli silenziosi, la badante, che si è però fatta talmente benvolere che anche nella cerchia di persone e di famiglie amiche si offre l'appartamento. Finora, quando sono arrivati, non c'è stato bisogno di intervento pubblico. Gli Ucraini, o per ricongiungimento familiare, o per ospitalità spontanea di famiglie, sono stati sistemati. Ma intanto è importante che il Consiglio regionale della Toscana abbia fatto sentire unitariamente la propria voce a condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e contro la guerra, che abbia espresso piena solidarietà al popolo ucraino e sostegno a tutti quelli che nel mondo, compreso in Russia, stanno manifestando contro la guerra. Dopodiché penso che dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico. Questo richiamo viene anche a seguito di quello che è stato il messaggio la scorsa settimana lanciato dai Vescovi e dai sindaci del Mediterraneo, riuniti qui a Firenze. Oppure il messaggio che ci viene dai ragazzi e le ragazze di Rondine, che nella cittadella della pace arrivano come nemici, imparano a gestire il conflitto e diventano operatori di pace. In questo momento in cui i falchi sembrano voler prevalere, ci vogliono molte più rondini. E poi il sostegno a tutte quelle sanzioni che l'Europa è stata capace, questa volta unitariamente, di combinare nei confronti del governo russo. Ora occorre aprire corridoi umanitari, occorre dare la disponibilità, come ha fatto con prontezza il Presidente Gianni per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi. E occorre lavorare per promuovere la cultura della pace, soprattutto nei confronti dei ragazzi più giovani, quindi anche con il coinvolgimento del Parlamento degli studenti del Consiglio regionale. Sì, io a titolo personale, anche rappresentanza del Consiglio regionale, ho voluto deporre un mazzo di fiori di fronte all'ambasciata dell'Ucraina nei giorni scorsi, perché questa guerra, così feroce e così ingiusta, stava producendo dei morti anche civili e con una ferocia senza precedenti che rimette le lancette indietro di tanti anni. E oggi però è importante, arriva un segnale forte dalla Toscana, in maniera unitaria, e tutte le forze politiche votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra, ovviamente, il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire, i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza e soprattutto una Toscana che grida con forza che serve la linea diplomatica, che serve la pace, una Toscana che prova anche a raccontare quello che sta succedendo anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che per la prima volta si trovano di fronte a una guerra che purtroppo viene comunicata costantemente sui social e ne deforma anche la rappresentazione tra chi vuole negarla e chi vuole enfatizzarla. Quindi un contesto al quale non eravamo abituati, che la Toscana prova a mettere un argine cercando di dare seguito a quello che in questi giorni è avvenuto, essendo una terra di diritti, essendo una terra di pace. Per noi è qualcosa di normale andare a manifestare in questo momento, in Russia non lo è. Quindi quello che è avvenuto probabilmente nessuno se lo aspettava, certo ci sono delle colpe da riconoscere all'Occidente, anche agli Stati Uniti e anche all'Europa, che non dobbiamo tralasciare perché riteniamo che gli errori devono essere anche corretti poi in un futuro per cercare di fare in modo che le cose migliorino. La più grande colpa dell'Europa è stata quella di non avere una politica estera unitaria all'interno dei propri paesi e quindi questo ci rende deboli nelle trattative, ci rende deboli quando dobbiamo andare a cercare di placare alcune situazioni. Ed è il momento che anche la Regione Soscana si faccia sentire, convocando, credo, il prima possibile, almeno lo auspico e lo riterrei opportuno, tutte le associazioni, i sindacati per fare un fronte comune affinché veramente si pongano in essere tutte quelle azioni e quelle iniziative che in qualche modo possano fare anche da contraccolpa una situazione che sul fronte dell'import e dell'export, ma anche sul rincaro delle materie prime, delle fonti di energia che già nei mesi passati hanno fatto sentire il loro carico su imprese, aziende e anche sui cittadini, ecco, questi sono temi che credo dovranno comunque sia essere affrontati. Bene l'accoglienza, bene la condanna delle azioni militari, ma ora occorre anche agire sul piano economico, perché altrimenti dopo due anni di pandemia noi rischiamo davvero di ritrovarci con un'economia veramente, veramente a pezzi. Il vero grande assente in tutto questo è l'Europa, perché se uno prova ad andare a ritroso fino a quando, negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, insieme forse alle Repubbliche Baltiche, era tra gli stati che più di ogni altro sognava finalmente il ricongiungimento di quelli che erano considerati fratelli separati al di là della cortina di ferro. Io credo che l'Europa occidentale, che avrebbe dovuto fare da traino per creare una vera identità europea, un vero Stato europeo in grado di contrapporsi economicamente, militarmente, culturalmente a chi stava fuori dai confini europei, non si sia mai realizzato questo processo. Un processo che veniva sognato paradossalmente dagli ucraini, dai polacchi, dagli ungheresi, dai baltici negli anni 90, probabilmente perché, anzi senza probabilmente, perché finalmente liberi dal gioco comunista e poi questo processo non si è mai concretizzato. Oggi l'Europa è riuscita a mettere in tasca a tutti noi una monetina uguale da un euro, ma non è riuscita a creare né una politica economica comune, né una politica estera comune, né, peggio ancora, una politica militare comune. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia e in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. L'Istituto degli Innocenti di Firenze si sta già preparando per accogliere, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano e al Ministro Luigi Di Maio, si sta preparando ad accogliere i bambini che sono sempre le vittime incolpevoli più fragili di questi conflitti. Però questa solidarietà dovrà essere accompagnata anche da una riflessione seria di quelle che sono le dinamiche internazionali, in un ruolo più forte che deve essere invocato dall'Unione Europea, che deve avere una politica internazionale unita nei confronti di situazioni di questo genere. Dobbiamo continuare a ragionare in termini di diplomazia internazionale. Personalmente io credo che l'invio delle armi, prima ancora degli aiuti umanitari, non sia, anzi non deve essere una delle mosse strategiche della comunità internazionale nei confronti di questo conflitto. Non dobbiamo soltanto invocare la pace, noi dobbiamo produrla. La pace è qualcosa che va conquistato ogni singolo giorno. Credo, credo fermamente che in questo momento la riflessione che debba essere fatta è quella del ruolo che la comunità internazionale deve avere. Le Nazioni Unite devono riuscire anche loro a fare una voce più forte nei confronti della Russia. Noi dobbiamo tenere in considerazione che all'interno di un contesto mondiale la Russia per noi è un partner. Non è soltanto un partner perché fornisce gas, perché fornisce materie prime, ma è un partner perché fa parte ormai dell'Europa in un contesto dove noi abbiamo l'India, la Cina, gli Stati Uniti d'America e l'Europa nel suo complesso. E in questa Europa nel suo complesso i trattati commerciali, i rapporti con la Russia, tenendo sempre in considerazione che la forza, cioè l'invasione dell'Ucraina, è da condannare. Quindi questo è il presupposto dal quale noi partiamo. Poi le considerazioni di carattere geopolitico e sono anche delle considerazioni di carattere economico non possono non valere nel ragionamento che noi abbiamo fatto in Consiglio regionale con la grande delusione che chi perde qua è il mondo intero, ma anche la diplomazia italiana, con un ministro degli affari esteri che non è all'altezza, perché i conflitti non è che si risolvono quando sono già partiti, dobbiamo essere in grado di prevenirli. Gli Stati Uniti hanno fatto una serie di accordi, io ricordo Ginevra 2021, Ginevra 2022, ma l'Italia è sempre stata assente da queste trattative, molto probabilmente il nostro ministro degli esteri era impegnato magari a tagliare qualche nastro rispetto ad una promessia che richiede complessità, tutela e soprattutto grande capacità di mediazione. E così abbiamo rivissuto quella che è stata la seduta straordinaria del primo di marzo, dedicata proprio a fare un focus sull'invasione dell'Ucraina. Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni ricordo il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi aspetto qua, come sempre, tra sette giorni, dentro il Consiglio. Grazie a tutti.